What's up guys, qui è il vostro Naked che vi parla ragazzi, siamo tornati con un nuovo video, signori miei, si sta avvicinando sempre di più l'uscita di Black Ops 6, oggi il nazionale è qui per finire dei discorsi, per dirvi un po' di cose. Su Bio 6, che vi ricordo, arriverà domani alle 6 del mattino per chi gioca da PC, mentre chi gioca da console potrà già toccare con mano il gioco alla mezzanotte di oggi. In realtà ci sono anche altri metodi, tipo il metodo Nuova Zelanda, che ovviamente non staremo qua a parlare in questo video, io vi do solo quelle ufficiali per quanto riguarda l'Italia. Ma duduloni miei, non perdiamoci in chiacchiere perché vorrei parlare di una primissima cosa che ha suscitato scandalo in questi giorni, perché è saltato fuori che ci sarà un audio particolare all'interno del gioco. Difatti Activision ha chiuso un accordo con un'azienda che si occupa appunto di boost audio, mettiamola così, in modo da potenziare, migliorare l'audio di gioco generale. Ebbene, questa feature sarà a pagamento, molto bene, per chi vorrà usufruire, attenzione, non del servizio base, perché il servizio base è disponibile per tutti, ma per il servizio plus dovrà pagare 19,90€. In realtà poi saranno 23-24€ con le tasse. Una tantum, quindi una volta sola, non è un abbonamento che va pagato mensilmente. Pagate questa cifra attorno ai 20€ e avete questo servizio sempre all'interno del gioco. Sostanzialmente ti dà accesso a profili personalizzati. Attraverso l'app questa azienda ti farà la scansione dell'orecchio, del volto, per adattare il sound alla tua struttura ossea, quindi totalmente personalizzabile. Chiaramente dirvi se questa cosa sarà vantaggiosa tanto da effettivamente investire questi 20€ ancora non ve lo posso dire. E' chiaro che questo scandalo lascia un po' il tempo che trova, ragazzi, perché comunque si sa il boost audio c'è da parecchio tempo, lo si può avere seguendo anche dei video, dei tutorial su YouTube senza neanche dover spendere soldi. E concettualmente quello che vi offre Activision è un audio 7.1, tradizionale dallo stereo, che è dove sia il padiglione di destra sia il padiglione di sinistra vanno in contemporanea, un suono profondo un po' alla Dolby Atmos. Ma anche qua facciamo un passo indietro perché in realtà questo sound alla 7.1 non si utilizza neanche con i boost audio che si trovano online, perché si basa sempre sul sound stereo il boost audio. Quindi 20€ sì, concettualmente non sono neanche tanti, c'è lo scandalo sì, c'è, non c'è, 20€ raga sono esattamente il prezzo di un bundle, di una skin, quindi per chi vorrà eventualmente provarlo rinuncerà a una skin per provarsi questa benedetta cosa. Ovviamente vi farò io poi dei video dove lo testerò e vi dirò poi se effettivamente ne vale la pena o no, quindi calma raga. Ma andiamo ad approfondire alcuni temi sul gioco, ragaz. L'altro ieri ho fatto il video sulle armi, molto bene, vi dico un'altra cosa che ci sarà su code, sempre in riferimento alle armi, sapete che è un nazionale specifico, veramente tecnico nel comparto weapons. Vi dico già una cosa che potrebbe aiutare molti di voi. In realtà molti ci hanno già fatto caso dalla beta, i più, i più, i più, i più, più attenti hanno notato che gli allegati, in questo caso gli accessori, hanno quasi sempre un vantaggio. Abbiamo qua la patch notes dove ci conferma questa cosa, ovvero che gran parte degli accessori che andiamo ad introdurre dentro l'arma porteranno un vantaggio, ok? E non uno svantaggio, non tutti tutti, ma più o meno il 90% non crea deficit all'arma, ma solo benefit. Questo è una sorta di modifica, perché sapete che su code non è mai stato così, almeno negli ultimi anni, cioè gli ultimi all'inteso proprio come warzone e non proprio code. Una volta, in realtà, una volta era così, mettevi gli accessori, pa 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 nei code vecchi e non dovevi star lì a calibrare, fare. Allora, più o meno è tornato così. È chiaro che non è un sinonimo di prendo e metto quel cappero che mi pare, no. È un sinonimo del agevoliamo, facilitiamo il system building in modo tale da personalizzarsi l'arma molto di più rispetto a prima, perché prima dovevi magari, per fare una build veloce, dovevi scendere a compromessi magari con un'arma che aveva tantissimo rinculo, perché la facevi super veloce, toglievi la qualunque, o il contrario, quindi fare un'arma da lontano super stabile, ma che era estremamente lenta. Adesso non succederà così, proprio perché gli accessori che andremo a mettere miglioreranno sempre l'arma. Come i vecchi code 5 accessori, anche qua i più attenti avranno notato che c'è una wild card, ovvero card, scusate, pistolero, che ti permette di mettere 8 accessori all'interno di un'arma, utilizzando la wild card. Ci saranno le wild card su Warzone? Probabilmente sì, quindi è anche una feature che bisognerà tenere d'occhio, perché anche su Warzone probabilmente si potrà, attraverso questa wild card, utilizzare un'arma con 8 accessori. Mentre le statistiche degli accessori saranno ancora più dettagliate, ok? Ci sarà proprio lo schema, il litbox con l'omino, con la percentuale di danno alla testa, al petto, al collo, allo stomaco, alle gambe, alle braccia, con eventuali percentuali in più e in meno, in base a se si va, che ne so, a togliere portata un'arma, aggiungere portata. Comunque ancora più facile e ancora più comprensibile rispetto a prima. Molto bene, siccome me l'avete chiesto anche in tanti questa cosa del prestigio, ok? Perché molti giustamente non hanno avuto modo di provare i vecchi code, vi spiego velocemente, raga, cosa consiste il prestigio arma all'interno del nuovo Warzone, che è appunto, come vi ho detto un milione di volte, il system che c'era nei vecchi code. Praticamente, raga, si arriverà, si partirà da zero, cioè non è come adesso, raga, che si arriva a 250 in prima season, poi seconda season si arriva a 500, ovviamente è arrivato a 500, non sali più, e via dicendo, ok, fino adesso che si arriva a 1250, molto bene. Adesso è un pochino diverso, ok? Si parte da zero e si arriva a 55, molto bene. Una volta arrivato a 55, quindi aver già sbloccato tutto, perché da zero a 55, man mano che salite sbloccate armi, sbloccate i letali, le tattiche, le stricche e via dicendo. Una volta arrivati a 55, decidete voi se fermarvi, tenervi tutto, oppure, come vedete in questa schermata, prestigiare, ok? Quindi cosa succede? Quando partite da zero a 55, vi fermate e decidete di prestigiare, tornerete a zero, ok? Sarete zero, prestigio uno, molto bene. Dopodiché rifate il processo, quindi da zero per la seconda volta, 0,55, prestigiate, tornate a zero e siete a prestigio due, così per dieci volte, ok? 0,55 per dieci, dopo che avete fatto questa cosa la decima volta, ok? Quindi per la decima volta siete arrivati a 55, avete prestigiato, entrate nel prestigio master, ok? Prestigio dieci volte uguale prestigio master. Il prestigio master, quindi dopo aver fatto queste dieci volte, partirà sì da zero, ma arriverà fino a mille, cioè almeno come era nei vecchi code, qua non è proprio spiegato al meglio, comunque sia, si parte da zero e da lì il 55 è infranto, potete salire fino a mille. Una volta era, diciamo, simboleggiava la bravura e l'impegno di un giocatore, ok? Quando trovavi in lobby qualcuno che era già prestigio master, ti facevi il segno della croce perché era sicuro che era un traiardone. Molto bene, questa cosa è tornata. È chiaro che raga, man mano che prestigiate, questa cosa adesso ve la dico, ogni volta che prestigiate, quindi tornate a zero, avete uno sblocco, ok? Quindi sono in totale dieci sblocchi perché dovete fare dieci volte 0,55. Lo sblocco è permanente, cosa vuol dire? Che voi quando poi decidete di prestigiare, il gioco vi dà un gettone che vi dice, ok, con questo gettone sei libero di scegliere un'arma che a prescindere da che livello ti trovi, ce l'hai sempre, che può essere un'arma, può essere un equipaggiamento, può essere una streak. Voi mettete il gettone sul XM4 e l'XM4 ce l'avete sempre sbloccato a prescindere. Altra cosa, è chiaro che voi, un esempio, adesso vi faccio vedere, a livello 55 sbloccate la S-VAL, ok? Qua nella ROAD dello sblocco. Se voi usate il VAL, ok, a livello 55, lo usate un po', lo portate a livello 10, ok? Se poi prestigiate, non è che poi dovete riniziare da capo il livellamento del VAL. No, è chiaro che dovete riaspettare il... cioè, dovete riarrivare al 55, a meno che non gli mettete il gettone di sblocco permanente. Dovete ritornare a livello 55, ma riprendete esattamente dove l'avete lasciata. Quindi, se l'avete lasciata a livello 10, ripartite con il livello 10 dell'arma e, via dicendo, poi la maxi. Cioè, poi, quello che fate a livello di proprio XP arma rimane congelato, ok? Questa cosa non succede se voi rimanete a livello 55. Se rimanete a livello 55, ve la gestite come volete. È chiaro che se prestigiate dovete ritornare indietro, quindi risbloccare tutto, no, rilivellare, no, riprendere dove avevate lasciato. Mentre, per quanto riguarda le camo, le final camo, che è quello che faremo più o meno tutti all'inizio, quindi fare la mimetica finale, vi ricordo che ci saranno tre tipi di camo, ok? L'anno scorso erano due, riferite al multi, riferite a zombie, su MV3 intendo. Quest'anno saranno tre tipi di camo, riferite al multi, riferite a zombie e riferite a Warzone. Quindi, ovviamente, le missioni per modalità, ok? Adesso vi faccio vedere un esempio. La oro, per quanto riguarda il multiplayer. La diamante, per quanto riguarda sempre il multiplayer. E la dark spine, sempre per quanto riguarda il multiplayer. Sono quattro per modalità. E la dark matter, la final, quella reattiva super mega faica, sempre per quanto riguarda il multiplayer. Mentre, per quanto riguarda zombie, abbiamo la gold. Ovviamente, sempre la diamante, in questo caso, sarà la opal, per quanto riguarda zombie. L'afterlife, che è la terza di zombie, stile un po' elettrico. E la nebula, che sarebbe la dark matter della modalità zombie. Appunto, poi, l'ultima, che non c'era per quanto riguarda il vecchio code, quella riferita a Warzone. Quindi, le missioni potete svilupparle solo attraverso Warzone, quindi giocando a Warzone. La gold, l'oro di Warzone è la gold tiger, molto bella. La diamante e la king's ransom, molto vittoriana, quasi gotica, un po' pacchiana. La terza camo sarà la catalyst, un po' squamosa, ma allo stesso tempo futuristica. E la dark matter del Warzone sarà la abyss. Sembra bella, chiaramente poi l'ultima sarà sempre reattiva, quindi... Ancora più bella. Apro e chiudo parentesi e sono tornate le sfide del reticolo, come Warzone 1. Quindi, quest'anno si può scegliere il mirino che ci piace e in più sbloccare il reticolo che ci piace. Altra cosa, posso dire finalmente, perché ci sono un sacco di mirini su MV3 che ho sempre voluto provare, ma il reticolo era osceno e non li ho mai usati. Quest'anno si possono sbloccare i reticoli sulle ottiche. Ragazzuoli, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate. Arriveranno i video su B.O.6, sulle armi da usare, cosa fare, cosa non fare. Il nazionale è qui per voi. Fatemi sapere qua sotto nei commenti. Noi ci vediamo domani con il prossimo video. Bella, ragazzi. Grazie a tutti. Ciao. 師? Grazie a tutti.